Ed eccoci ritornati in diretta. Grazie Tony per lo spazio perché questa mattina vogliamo parlare di un argomento che a dispetto delle proposte di modifica avanzate non solo dall'Unione Europea ma dai vari stati di sei mesi in sei mesi ritorna in maniera forte e prepotente. Ci riferiamo in maniera specifica al cambio dell'ora cosa che tutti abbiamo fatto nella notte tra sabato e domenica e nello specifico su questi effetti sul sonno che tanti di noi purtroppo riscontrano proprio a partire da questo evento che come dicevo cade ogni di sei mesi in sei mesi. Allora questa mattina vogliamo provare un po' ad analizzare il punto della situazione con il professor Luigi De Gennaro ordinario di psicologia dell'Università La Sapienza di Roma uno dei massimi esperti a livello internazionale di cura e gestione del sonno che io saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e buongiorno a chi ne ascolto. Grazie mille per la sua disponibilità. Allora purtroppo fatidica cade la data come dicevo ogni sei mesi di cambio dell'ora questa volta dall'ora legale siamo passati all'ora solare fra sei mesi succederà il contrario. Ma ecco questa giornata un po' possiamo dire manda in confusione tantissime persone perché ecco viene un po' come si dice in maniera anche piuttosto diffusa sballato il ciclo del sonno. Allora può aiutarci un po' a capire le cause di questi problemi che purtroppo tanti italiani devono affrontare? Allora innanzitutto semplifichiamo e diamo un messaggio positivo dei due passaggi quello autunnale cioè quello attuale quello che è accaduto in questo weekend e quello meno negativo quello in cui come si dice si torna all'ora solare. Mentre quando comunemente si parlano di conseguenze negative del passaggio all'ora legale si fa riferimento tipicamente a quello primaverile. Questa è la prima notizia buona parzialmente temporaneamente buona. La domanda perché? Per due ragioni sostanzialmente. Quando noi cambiamo e passiamo all'ora legale facciamo due torti se vogliamo, due sottrazioni al sonno. Il primo come si dice tipicamente rubiamo un'ora di sonno. Il secondo è disalliniamo di un'ora i nostri ritmi biologici. In verità questa seconda cosa la facciamo anche in autunno, il disallineamento, ma evidentemente in autunno non c'è un'ora di sonno in meno, ma eventualmente un'ora di sonno in più. Che sappiamo a riguardo? Due cose. Primo fresco fresco di questa settimana il pronunciamento innesimo della società britannica per il studio del sonno che è molto forte ha lanciato il messaggio ai decisori politici come sia negativo l'impatto del passaggio all'ora legale. Non solo sul sonno, non solo perché maturiamo questo debito, ma perché una serie di conseguenze negative sono riscontrabili sulla salute. Stiamo parlando di rischi statistici, ma parliamo di aumento di ictus, di aumento di suicidalità, di aumento di rischio di impatto al miocardio. Ultima considerazione, il tradizionale argomento che sin dalla prima guerra mondiale ha portato a introdurre l'ora legale, cioè il risparmio energetico. Primo, è sempre minore, questo stanno indicando gli economisti negli ultimi anni, cioè a dire più anni passano meno guadagniamo in termini di risparmio energetico. Secondo, quando pensiamo agli aspetti economici, dobbiamo pensare anche al nostro aspetto, che ci sono altri costi che noi paghiamo nel passaggio all'ora legale. Quando si riscontra, come si riscontra? L'aumento dell'incidentistica stradale, l'aumento degli incidenti sul lavoro, l'aumento dei casi di assenza del lavoro. Evidentemente anche questi sono costi che vanno in qualche modo a bilanciare quelli che sono i benefici economici. Quindi anche l'argomento economico viene a mancare. Rimangono solo le conseguenze negative sulla salute, sull'efficienza lavorativa e aggiungo, per una popolazione debole come gli adolescenti, sull'efficienza scolastica, cioè sul rendimento e sull'attenzione a scuola degli adolescenti. Quindi professore, mi pare di capire che lei sia un po' a favore dell'abolizione di questo passaggio, possiamo dire così. Come tanti di noi, quello che le vorrei chiedere è se ci sono anche, chiamiamoli dei trucchetti, possiamo dire così, per rendere meno, tra virgolette, traumatico questo passaggio. Ecco, io per esempio, non so se faccio in maniera giusta o sbagliata, provo a riallineare il ciclo del sonno in base anche agli orari del pasto. Potrebbe essere un'idea? Sì e no, nel senso che il trucchetto vero è quello di anticipare gradatamente nei giorni del previsto passaggio dell'ora lo spostamento che poi effettivamente si verificherà. Faccio un esempio banale, anche se può risultare un po' complesso. L'esempio più semplice dell'alterazione, ben più piccola, che fa l'ora legale, è quella del cosiddetto jet lag. Quando noi facciamo un volo trasmeridiano, attraversiamo diversi fusi orari. Ovviamente in quel caso il disalineamento è molto più ampio, evidentemente. che si fa in quel caso, si consiglia, fra le altre cose, non è l'unico rimedio, di cominciare a anticipare il proprio ritmo biologico a quello della località in cui si andrà. Similmente, per l'ora legale, noi possiamo, è un trucchetto come lei mi ha chiesto e io glielo suggerisco, in qualche modo di anticipare nei giorni che precedono il weekend del spostamento delle lancette, la direzione del, per cui se ritardiamo, cominciamo a ritardare evidentemente in anticipo, se dobbiamo anticipare, evidentemente cominciamo in anticipo ad anticipare. Però le ripeto, questi sono trucchetti, verrebbe da dire, sarebbe ora che la maggior parte dei paesi europei recepiscono quella direttiva EU, lei stesso ricordava che non è vincolativa, ma è solo un suggerimento, potremmo dire. Perché, ripeto, ormai non ci sono più ragioni economiche, come dire, favorevoli. Rimangono solo i costi per la salute. Non è la mia una preferenza. Sempre in questa settimana è uscito uno studio, sempre in Inghilterra, fatto su 12 mila persone, che fa vedere molto chiaramente come effettivamente noi, nel passaggio dell'ora legale, mentre in quell'autunnale non è vero che guadagniamo un'ora, nei fatti rimaniamo al netto molto simili, in quello primaverile effettivamente perdiamo un'ora. Ed è quello che poi va a impattare sugli occidenti stradali, che va a impattare sul campo delle persone. Posso dire una cosa però leggera, almeno se vogliamo sorridere a quest'una mattina. Gli unici che sono contenti, potremmo dire, univocamente dell'ora legale, in Australia sono i Quala, perché si è osservato che in relazione alla modificazione dell'ora legale, quindi in relazione alla modifica del numero delle auto in circolazione, diminuiscono drasticamente gli incidenti stradali in un uoio in Quala. Potremmo dire che i Quala australiani certamente sono quelli che beneficiano, diciamo così, dell'ora legale. Bene, professore, allora io la ringrazio, gli amici animalisti non ce ne vogliano, se insomma i Quala li lasciamo un attimo da parte, però insomma questo, tra virgolette, problema del cambio dell'ora è davvero un qualcosa che va ad intaccare anche il buon vivere delle persone, come lei giustamente ci ha sottolineato. Io la ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi e nella speranza che i nostri amici abbiano recepito quel piccolo trucchetto che le chiedevo e che può rendere meno traumatico appunto questo passaggio. Grazie, grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie a tutti per la giornata. Grazie mille, ringraziamo il professor Luigi De Gennaro davvero per essere stato con noi e restituisco a te la parola, Tony.